Circa 700 le persone prenotate anche oggi ed ancora una giornata dedicata agli Open Day, ma questa volta solo per la fascia 12-18 anni. Ed erano tanti i giovani, ma soprattutto i genitori, che avevano accompagnato i figli questa mattina presso l'Abalex Caserma Pepicelli a Benevento per aderire alla campagna di immunizzazione. Ed in vista del nuovo anno scolastico, la speranza è che la vaccinazione possa scongiurare lezioni in DAD, ma che si ritorni presto in aula. Sperando che possa rientrare a scuola regolarmente. Credo fermamente nei vaccini e quindi per me è una tutela sia per lui che per la società. Si spera che possa garantire continuità quest'anno scolastico? Magari, perché diciamo che con la DAD non è andata proprio benissimo. Tante inoltre le persone in attesa per ricevere la seconda dose di vaccino. Fare la seconda dose? La prima l'ho fatta a giugno, non valeva la pena aspettare. Seconda, il ricamo? La prima dose l'ho fatta già molto tempo fa. Ma c'è anche chi ammette di essere stato invogliato, soprattutto dalla necessità del Green Pass. Per il Green Pass? Se no non si può fare nulla? No, convinto e anche per il Green Pass, ma ero convintissimo assolutamente. Intanto, nelle ultime 24 ore in ospedale si registra un nuovo ricovero nell'area Covid, portando a nove il dato dei pazienti in degenza nei reparti del Sampio dedicati all'emergenza coronavirus.